Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriamo due prodotti esclusivi OCG, per la precisione dovrebbero essere due prodotti, cioè il prodotto è uno, esclusiva coreana e visto che ci stavano sopra i cinque draghi che poi vabbè sulla confezione ne sono sei ma tu sei un pochettino un intruso e mi sono detto probabilmente questo era qualcosa di interessante format, probabilmente sei, quindi andiamo a comprarli, vediamo un pochettino cosa ci sta all'interno. I presenti box li ho comprati su JAKSTORE che è anche il mio sponsor che è pieno diciamo di prodotti coreani e tramite il link che vi metterò in sovraimpressione o il mio codice sconto potete acquistare i seguenti prodotti anche scontati, quindi risparmiare qualcosina e allo stesso tempo supportare il mio canale, di conseguenza posso portarvi altri unboxing di questo tipo. quindi andando a vedere il prodotto che c'è scritto non ho idea perché è tutto coreano quindi non ho idea di come si traducano le cose ma la cosa è certa è che abbiamo le forbicine dell'IKEA ma soprattutto mentre andiamo ad aprire i seguenti box se non siete iscritti al canale e siete nuovi innanzitutto benvenuti, questo canale mi occupo principalmente di retroformat che siano unboxing di prodotti coreani appunto dati via vecchie espansioni appunto che facciano riferimento al retroformat ma anche profile e quant'altro di contenuti Edison, Tankplant, Art eccetera eccetera. quindi allora io magari vorrei non tagliarmi ho aperto il secondo box sono 15 bustine per ogni box e ogni bustina dovrebbe contenere credo 4 carte visto che è scritto qui quindi io direi di cominciare anche perché non ho idea di cosa ci sia nello specifico all'interno visto ci stavano i cinque draghi ho detto vabbè se li trovo in qualche rarità figa non ci fanno male ok abbiamo subito un mech lord sta cosa non la ricordo penso sia uno scusservant ok abbiamo una super oh e villaggio degli incantatori secret dato che io un po' ero fermo ultimate secret ghost poi sono usciti la platinum secret, la platinum, la ultimate ocg e mannaggia al cacchio allora qui abbiamo l'ora con le sole un warning utile per chi gioca Tango roba inferniti oh bellissime queste qua questa si trova il 3x quasi là al gioco e nel caso appunto poi vi interessino anche carte singole coreane potete anche consultare il mio store qui sotto in descrizione dove ho tantissime carte in vendita relative al formato appunto ai retroformat in generale sia coreane ma anche appunto TCG quindi europee mi verrebbe da dire ok l'altra variante ok ok l'è il compiurso di stavo per dire vabbè avete capito quindi potete andare a consultare quelle diciamo che tramite diciamo i vostri acquisti poi cerco di rinvestigirli per portarvi contenuti qui su youtube quindi qualora voleste farlo mi fareste diciamo un gran grande favore allora continuiamo oh oh abbiamo un DagoBlood prediste d'assalto e ho fatto una profile Edison in merito a questo mazzo quindi sfruttando anche il reparto Syncrocat quindi cosa vi interessasse vi lascio sempre in sovrimpressione l'accesso ok lo Stijan e questa che non mi ricordo che era una carta di Lod mi pare che però vorrei separare le Secret da dovrebbero essere Secret OCG da quelle dalle Super quindi le mettiamo così allora non sembra malaccio come pack certo vorrei vedere roba un po' più sostanziosa e magari che fa più riferimento a periodi prima del 2011 magari quindi intorno più al 2010 ma anche 2014 non fa male appunto il Drago Maligno manco per nominarlo il guerriero colpo scuro il bastardo maledetto sto coso di cui non ricordo assolutamente il logo oh lui ci piace lui ci piace tanto eh sì sì e tu hai una follatura diversa eccolo qui Quarter Century tu sei la Quarter Century perché infatti dicevo non c'è il logo poi Quarter Century quello vuol dire effettivamente tradotto tu sei tanta roba infatti andrò a prendere la bustina e ti mettiamo qui dentro sì come al solito solitamente prendo quelle un po' più larghe poi me le gestisco dopo quindi abbiamo beccato la Quarter Century che ci piace il bulbo luminoso mamma mia molto 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 figo eh per chi non lo sapesse è neofito appunto di retroformat è diciamo una delle carte più ricercate nel formato Tengu Plant vorrei trovare lui Quarter Century onestamente e quindi vi consiglio ammazza che vecchia questa che cacchio è questo ragazzo restante è una carta che non ho idea di chi sia non ne ho proprio idea lui sarebbe veramente figo da trovare comunque sì è una delle più ricercate per il reparto Tengu Plant da vista che appunto fa parte dell'omonimo mazzo e del reparto pianta nello specifico che è composto da Lone Fire Blossom il Dendy la Spora e per ultima non per importanza il Bulbo luminoso accompagnato ovviamente dal Magico dei Bristadagon mazza sto cosa ancora campa il Pixie non ne ho idea e Guerriero Corpo Scuro che dovrebbe essere Secret e basta ok quindi andando a fare le conclusioni immagino sia un box in cui praticamente abbiamo le stesse carte cioè le carte che trovi le puoi trovare in tutte le rarità che poi l'ho detto un po' a priori prima però mi pare di averlo letto quando ero appunto sul momento di acquistarlo che è Antico Drago Fatato infatti questa è la confermo ulteriore oh figo lui il Junk Destroyer questo è sempre roba 2011 tanta roba sto box mi piace mi sta piacendo devo essere sincero mi sta piacendo e ne abbiamo ancora un altro da aprire che a questo punto non so se fare un video a parte o lo apriamo direttamente assieme in questo video ci penserò non cantare del Cosa per il Drago Maestroso e il Beals mamma che bello Beals ok diciamo che stiamo trovando roba cicciosa eh ragazzi roba cicciosa che appunto può funzionare su dal 2014 2011 e ripeto se volete acquistare il box io come dicevo all'inizio io ve lo metto in descrizione in sovraimpressione in maniera tale che possiate acquistarlo anche tramite il mio referral link quindi supportare allo stesso tempo il canale quindi il Cyber Drago finale maligno e sto coso che è uno però del del modern del modern che è un secret purtroppo non possiamo utilizzare le carte non si possono utilizzare le carte OCG per il modern ma ah cioè apparenteremo scusate ma per il tornei diciamo retroformat che sono appunto gestiti magari da me o ShuffleTech game ci sono altri miei partner concediamo l'utilizzo di carte del genere senza alcun problema Drago alineare oh bellissimo l'altro però è secret questo è secret ragazzi questo è secret quindi faccio vedere anche la differenza vicini che è abbastanza palese poi sulla stessa carta ok un'altra carta che mi piacerebbe trovare quarter century visto che l'abbiamo vista prima e vabbè immagino un po' lo stardust anche se c'è però vorrei onestamente forse il solemn warning il solemn warning secondo me è tanta robina il solemn warning da quarter century difficilmente lo troveremo però oh l'odino bello allora gioco teoricamente la versione senza odino però qualora vi dovesse interessare scrivetelo poi nei commenti pubblicherò sul canale la lista del mio nordic per il formato Tenguplant che è appunto il formato 2011 che diciamo oddio mi è ancora chiusa diciamo che segue l'espansione appunto Storm of Ragnarok di da poco ok Goiogardia Black Rose non mi ricordo cosa sia ah ste cose si mi ricordo che cioè non mi ricordo il nome ma mi ricordo il fatto che c'erano queste per ogni attributo era un mazzo carino for fun ok abbiamo le ultime due boost per il primo box quindi continuiamo abbiamo Zephyros questa non l'idea non mi ricordo come si sta carta 0 0 e tu chi cacchio sei boh quelle potrebbero arrivare so che tipo di commenti potrebbero arrivare però ci dissociamo ok il porco spino colio bulloni giardino nero tizio e immagino buh li vuoi mille life points eccoli qua ok quindi procediamo con l'apertura del secondo box vediamo se riuscirà a superare un pochettino il primo però diciamo lo faccio principalmente perché sono curioso di vedere le altre carte all'interno di questa di questa espansione perché sembrerebbe veramente caruccio poi diciamo che ho tutta una playlist dedicata ai box coreani che apro e diciamo per ora probabilmente tra i miei preferiti c'è la rarity collection ok c'è il silver wind quindi questo potrebbe un po' contentare i giocatori di black wing ed edison questa carta che usciva pure da come si chiama scarlata oh logre dragon come si chiama oddio crisi scarlata ecco non mi veniva il termine ok quindi abbiamo l'altra secret del secondo box e le super metteremo così oh chissà troviamo il warning potrebbe essere tanta tanta roba continuiamo a sfornare guardiano goio perché ne abbiamo infiniti oddio questa è familiare come cacchio si chiamava uuuuh il tg striker mazza questo per tango plant è tanta roba sto ecco sto box il tg striker questa anche si è vero che la potete trovare rara o quel che è però diciamo in versione realizzata è una delle carte che secondo me costicchia costicchia tipo quella ultra dovrebbe stare sui 10 euro circa e ok un altro compulsore oh il pixie dragon ok ce l'abbiamo ce l'abbiamo sicuro sto giro sto box non mi dispiace affatto devo essere sincero quindi assolutamente lo consiglio come fra i best format e vabbè tra i best box da acquistare per i retro format dobbiamo aperti vari ripeto tra oscurita fantasma all builds common sta cosa non ho idea di cosa sia sto coribbo brutto col fiocco l'unica cosa che mi dispiace è che non ci siano le ultimate perché le ultimate ragazzi sono veramente penso siano la mia espansione preferita le ultimate però come si deve ok la victoria l'odino common veramente brutto un'altra di sti cosini brutti e questo vabbè questo potevamo risparmiarcelo assolutamente poi ripeto alcune delle carte sono sempre in vendita quindi vedete un pochettino un pochettino voi poi mi ricordo che quando ero un hub sto cosino ammazzo migliorato livello 4 anche se il vero il vero player lo sappiamo tutti la vera carta era predatore corse o lupo geneticamente modificato per chi di un certo societo sociale ok una counter che non ho idea di cosa sia e un'altra di queste sto box non mi sta piacendo proprio questo qui proprio zero quindi meno male che il primo è stato un po' più carino insomma caro box vogliamo far vedere delle carte belle relative ai formati più seri oh ecco il bulbo common che ce lo mettiamo un po' anche da parte pixie dragon ce ne frega oh facciamo vedere le cose più serie si dai mi va bene bora super è carino ragazzi bora super è molto carino vero poi vabbè ce l'ho anche con l'ultra raro però non figo anche il bora così ok continuiamo con l'unboxing però dei 5 draghi per ora non abbiamo visto praticamente a parte il drago all'inere mi pare nessuno ah no l'antico drago fatato ok bella spora secret che carina che carina spora secret sei carinissima sei veramente carina una delle carte poi più forte perché il formato tank plant è veramente forte pensavo di aver tagliato anche una carta ok sempre ste cose ok ma che figo sto artwork sincro 3000 3000 il void dragon ovviamente e chi poteva essere il drago bianco più sincro diciamo che ha un colore diverso però vabbè so che esiste la versione sincro per carità però ovviamente non è il drago bianco che blocchia abbiamo inferniti trappolone sto cosso e bello sempre per chi voglia giocare in inferniti che a proposito abbiamo fatto una profile con con amos che è uno dei judge principali in italia anche più famosi relativa appunto a questo mazzo qui quindi caso che anche vi dovesse interessare andatevelo sempre a recuperare allora vai porbicine di rikea non mi deludete ok abbiamo questo era un mac lord mi pare mac lord propulsore mamma mia che brutte carte da stop box ragazzi mamma mia quante bustine ci rimangono quattro i fantastici quattro come si suol dire e allora questo no pare quello di no fu metal alchemist vabbè siamo capiti io non ho idea di cosa sia non ne ho proprio idea quanto meno se fosse anche se fosse una carta del passato non me la ricordo minimamente quindi mi dovete scusare ok mentre queste già le riesco a riconoscere questa no questa sì che erano quelle che vi dicevo prima questa è quella luce ok il tg non è quarter no ok la quarter quindi non è assicurata da quella che possiamo anche constatare quindi fatemi sapere se volete unboxing di nuovo di questo box quantomeno quindi cercheremo anche di contattare il nostro amico Gianni ok per il drago messo ci hanno messo lui ma il drago oh oh quarter duplicazione di macchine quarter ok no quindi potrebbe essere assicurata per ogni box carina carina ma volevo qualcosina di più però chi troppo vuole non la stringe quindi ultima bustina non dovremo trovare chissà che cosa però sai come andremo abbastanza spediti assalto giardino nero spora super e sto coso che non ci piace e ragazzoli paradossalmente non abbiamo trovato nessuno dei pare dei cinque draghi in cioè non calcolate la versione quella la remastered però la versione originale non è stata trovata in alcuna maniera super eh super secret e questo un po' mi dispiace talia nel complesso penso sia un bel box sono carte carine all'interno carte interessanti che potrebbero anche spronare appunto a comprare i prodotti visto che vabbè è vero che anche sono accessibili i retroformat di base tranne per qualche cartina però prodotti del genere possono aiutare anche nel building soprattutto se volete togliervi lo sfizio appunto di fare unboxing quindi io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto e nel caso ci vediamo al prossimo video che sia una cosa o quant'altro see you next time miu miu un po' Grazie.